che freddo mamma mia ci sono 16 18 gradi in questo camper dove io vivo il problema era riuscire a scaldarsi con pochi soldi e non avendo la classica stufetta elettrica girando su internet ho trovato questo fantastico progetto di stufa a candele che con pochissimi soldi al giorno ci permetterà di alzare di 3 4 gradi la temperatura all'interno di un ambiente piccolo in questo caso all'interno del mio camper ed ecco necessario per realizzare questa stufetta a candele ovviamente le candele io ne ho comprate 50 all'euro spin per 2 euro e 70 circa una vite a testa esagonale m10 io ho preso una m10 per una lunghezza di 90 mm sotto testa all'incirca costerà 40 50 centesimi 4 dadi m10 per la vite e sono 2 4 5 6 rondelle 6 rondelle per m10 all'incirca al prezzo di 50 centesimi anche quelle poi abbiamo dei vasi un vaso che ha una dimensione di circa 13 14 centimetri di diametro idem per l'altezza è un vaso più piccolo questi vasi sono di coccia naturalmente un altro vaso che contiene e comunque fa da appoggio per tutto il sistema di riscaldamento completano la stufetta due pezzetti di alluminio che serviranno come appoggio in modo da lasciare un minimo di aria in questo punto qua ma andiamo a vedere come funziona per prima cosa accendiamo le nostre candele le andremo a posizionare all'interno del nostro vaso sempre di coccio che useremo come base ora andiamo a posizionare i nostri supporti in alluminio cominceremo dal vaso più grande a tappare questo buco che vedete qua in alto e lo tapperemo con la nostra vite a testa esagonale con una rondella così visto dall'interno ora andremo a posizionare un numero di rondelle tale da permetterci di rendere piano questo punto è il punto del vaso più piccolo una volta fatta questa operazione facendo caso che questo piano sia pari andremo a mettere un ulteriore rondella qui andremo ad avvitare un dado una volta avvitato il dado fino in fondo non ci resta che usare gli ultimi dadi e la rondella che ci sono rimasti e il tutto andrà posizionato sopra il nostro vaso di appoggio ed ecco fatto qui potete vedere il lavoro finito e in funzione non toccate mai questo affare